Stavano in uno stato di evidente sofferenza, uno in modo particolare si mordeva le zampe, aveva delle lesioni che si era creato e altri si grattavano in continuazione senza un minimo di pace. Viva con secali in condizioni igienico-sanitarie e precari, gli animali infatti erano tutti ammalati di rogna e senza microchip, per questo è finito nei guai una settantenne a Castelfranco Pian di Scoi in provincia di Arezzo. Il blitz delle guardie zoofile di Oipa è scattato a seguito di alcune segnalazioni. La segnalazione riportava anche in allegato delle foto e da lì abbiamo capito che la situazione era da prendere seriamente in considerazione e abbiamo fatto l'intervento. Nel caso all'area del settantenne sono stati così ritrovati sei cani, alcuni di questi con la rogna, una malattia della pelle causata da parassiti che porta alla perdita di pelo, prurito e infiammazioni cutanee. Questi animali non erano curati da tempo per cercare di risolvere la loro situazione. Da lì abbiamo deciso di contattare immediatamente il canile comunale di competenza e far prelevare i cani, quantomeno in emergenza quelli più gravi, e poi successivamente saranno prelevati anche gli altri. Contemporaneamente abbiamo fatto comunicazione e notizia di reato che sarà portata alla Procura della Repubblica. Adesso i cagnolini cercano una famiglia che possa così prendersi finalmente cura di loro. Speriamo che questi qui, una volta curati, possano trovare un'adozione, chiamiamolo un'adozione del cuore, da parte di qualche cittadino.